Per iniziare il video, come sempre, anche ti voglio ricordare che se vuoi avere la possibilità di vincere qualche oggetto all'interno di Fortnite, molto semplicemente non devi fare altro che andare ad iscrivervi attivando la campanellina delle notifiche per restare ad aggiornare tutti i video che escono all'interno del canale. Vagalo già un bel like per supportare il video e condividilo con tutti quanti i tuoi amici per avere più probabilità di ottenere qualche oggetto su Fortnite. E ovviamente puoi inserire il mio bellissimo codice che supporta un creatore L3OTEC all'interno di Fortnite. Taggami su Instagram così io ti potrò andare a ricaricare e otterrai una sponsorizzazione gratuita. Detto questo ragazzi, vi lascio al video. Esatto ragazzi, avete capito bene, la Epic Games regala 1000 V-Bucks, ovvero un bono da 10€ a tutti i giocatori. E in questo video andremo a vedere come fare, ma visto che non dobbiamo perderci in chiacchiere, iniziamo subito a vedere effettivamente come funziona il procedimento. Innanzitutto dovrete scaricare sul vostro PC il launcher di Epic Games. Una volta che lo avrete scaricato, lo aprite esattamente così e vi porterà in questa pagina. Ovviamente dovrete crearvi un account e farvi appunto l'account di Epic Games. Può essere per qualsiasi logo, per quello che volete. Una volta che lo avrete fatto, andate molto semplicemente qui ragazzi, sblocca il tuo bono e vi apparirà questa schermata qui. Collegati al risparmio, iscriviti oggi, iscriviti alle email di Epic Games e ricevi un bono da 10€ che puoi usare per tutti i giocatori. Andiamo a vedere maggiori informazioni a riguardo. Come vedete ci porta su questa pagina qui e appunto, visto che avrete l'account, vi basterà cliccare su questo tasto qui. Si, inviatemi email sui prodotti e le novità, gli eventi e le promozioni di Epic Games. Una volta che l'avrete fatto, potrete subito chiudere il browser e andiamo a vedere come possiamo fare per procedere. Dopo aver fatto ciò ragazzi, come dovete fare? Andare semplicemente sull'email che vi è stata recapitata, quindi l'email sul quale avete deciso di appunto collegare questo account. Come vedete ci è arrivata una mail dell'Epic Games in cui dicono un bono semplicemente Congratulazioni, hai ricevuto un bono da 10€ da parte dell'Epic Games Store. Collegati al risparmio, bono da 10€ dell'Epic Games Store. Hai ricevuto un bono come ringraziamento per non aver perso le novità di Epic Games tramite email. Il tuo bono per l'Epic Games Store sarà del valore di 10€, verrà applicato automaticamente all'acquisto di qualsiasi gioco idoneo o da almeno 14,99€ o qualsiasi altra spesa nel carrello pari o superiore a 15€ per l'acquisto di giochi completi. Quindi ragazzi, semplicemente voi potete con questo oggetto andare a comprare gli oggetti di Fortnite. Come sapete purtroppo c'è anche scritto il gioco deve essere completo ma questo non vuol dire perché c'è una piccola cosa infatti i bundle rientrano tra gioco completo. Infatti con questo buono potete andare immediatamente a riscattare il vostro oggetto. Quindi andando a comprare un bundle che costa almeno 14,99€ l'Epic Games vi regalerà diciamo 10€ ovvero potesse poi convertirli in 1000 V-Bucks. Questo molto semplicemente vuol dire che voi pagherete esattamente 5€ invece di pagare 15 pagherete 5€ che è una cosa davvero fantastica. E appunto questo buono ragazzi mi raccomando scade il 27 febbraio quindi ne abbiamo ancora due giorni in meno di un mese quindi circa 29 giorni prima della scadenza di questo codice quindi mi raccomando se l'hai riscattato ti invito ad andarlo subito a spendere. Vediamo cosa c'è che abbiamo sul tasto riscatta subito e dovrebbe portarci in questa schermata qui esatto ragazzi abbiamo un codice davvero è una cosa fantastica qui possiamo appunto andare e cercare un gioco io ora non saprei alcuni giochi potrebbero interessarmi da 15€ però ad esempio se cerchiamo Fortnite andiamo qua giù nei contenuti aggiuntivi add-on ad esempio possiamo prenderci il bundle pacchetto Robo Kevin per 15€ lo aggiungeremo al carrello e noi lo pagheremo semplicemente 5€ e 99€ quindi appunto avremo un sacco di sconto ovviamente anche i bundle sono altri come ad esempio il pacchetto in carica alla stregata però purtroppo qua ragazzi non rientra il bundle Tecno Futuro il bundle Leggende alla Menta oppure semplicemente 2800 V-Bucks quindi qui avremo il 50% di sconto che a parere mio è davvero tantissimo ma prima direi di andare a vedere alcuni giochi ragazzi che magari possiamo prendere per 15€ ovvero delle proposte che vi offro io ad esempio come ben vedete qua GTA lo andremo a pagare solo 5€ quindi possiamo avere GTA ha un prezzo scontatissimo a 50 centesimi si vabbè certo ovviamente ne siamo maggiorenni vabbè comunque potete prendere come vedete per soli 4€ e 99€ qua ci sono anche saldi aggiuntivi quindi avrete ancora tempo come vedete magari lo andremo a pagare solamente 4€ e 99€ quindi davvero una cosa fantastica ma se ne andiamo indietro veramente i giochi non finiscono qui perché andiamo a vedere sotto i 20€ quali giochi si escono allora questi giochi carini qua non sono molto molto famosi però ovviamente possiamo trovare anche cose più interessanti come ad esempio magari il gioco di Cobra Kai che andremo a pagarlo 15€ quindi molto molto carino il gioco di Tomb Raider da 20€ davvero ragazzi per il mio fantastico Beard Cage He Will Shoot davvero molto molto belli a per il mio ragazzi sono davvero dei giochi fantastici quindi io ovviamente vi invito a fare un salto su questo shop appunto di Epic Games per vedere dove volete andare a GTA ma tra l'altro vi ricordo che non è l'unico sito in cui possiamo andare a prendere GTA infatti su Eneba tra poco arriverà anche il mio codice Eneba con il codice Leo se volete avere più sconto ma aspettate ragazzi queste cose le vedremo tra qualche giorno quando la sponsor sarà ufficiale però come vedete anche cercando GTA possiamo trovare dei giochi che andremo a pagare pochissimo io per esempio se guardate qua cercate Fortnite addirittura successo dal basso all'alto trovate questi van ragazzi 24 centesimi 45 centesimi 50 centesimi ma non basta perché guardate questa cosa qua interessante guardate eh Catwoman guardate quanto pagate pagate cioè 1 euro e 84 per questo piccone super tryharder super raro ma wow ragazzi davvero è una cosa fantastica quindi ragazzi come vedete qua avete un sacco di giochi che volete prendere a questi pezzi così bassi in particolare grazie a questo codice che l'Epic Games appunto ci offre a tutti che quindi a parer mio potrebbe essere una cosa molto 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 interessante proprio perché ragazzi con questi codici avremmo un sacco di ultrere sconte per comprare bundle V-Bucks e robe del genere quindi ragazzi mi raccomando io prima di concludere con il video in caso ancora non foste iscritti mi raccomando per non perderevi nuovi aggiornamenti su robe del genere sull'Epic Games che regala delle cose mi raccomando in caso ancora non foste iscritti vi invito ad andare a iscrivere al canale attivando la campanella delle notifiche per essere ragionati su tutti i video che escono all'interno del canale vai a lasciare un bel like per supportare il video e condividilo con tutti quanti i temici così che anche loro sapranno come andare per appunto riscattare questo codice che forse mi sono dimenticato di dire infatti scade esattamente il 27 febbraio comunque avete ancora un sacco di tempo per effettivamente riuscire a trovare un gioco degno di nota e poterlo acquistare grazie a queste cose che l'Epic Games vi sta regalando quindi va bene ragazzi grazie mille per la visione il video di oggi può terminare qua mi raccomando quando fate acquisti su Fortnite usate il codice creatore Eletrotech e mandatemi la foto su Instagram così io vi andrò a ripostare appunto sia su Instagram che su YouTube in tutte le cose in tutti i miei social trovate tutti i social qui sotto in descrizione mi raccomando mettere un po' sia su Instagram che su YouTube dove volete quindi grazie mille per la visione ragazzi ci vediamo con i prossimi video qui all'interno del canale alle ore 7 e tra l'altro sto anche ampliando il live quindi magari prossimamente addirittura oggi pomeriggio ci vediamo in live circa verso le ore 2 non me ne sono così sicuro però ragazzi tra poco ci vediamo in live quindi mi raccomando grazie mille per la visione passa in live per fare un saluto ci vediamo con i prossimi video qui all'interno del canale alle ore 7 di mattina esattamente tutto i giorni grazie mille per la visione ci vediamo alla prossima